Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Luigi, dovunque sei, esci fuori. Ti senti le cosci? È scompasso. Sì, no, volevo ringraziare Luigi e... È scappato. È sbampato. È andato a prendere la netta. No, ha fatto apposta. Ragazzi, devo sempre un pochino chiede. Che devo fare? E poi c'è una sorpresa. Questo lo sapete che c'è? È andato a prendere la netta. Eh... Stiamo gente di sorpresa. Aspetta. Prima di facci i danni. Oh, mazza del pacco. Se è da mangiare è mio. Faccio dalla voltata il pacco. Già sento nell'aria che è da mangiare. No, 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 no. Si riperfondono bene. Sicuramente ci riperfondono. Ma io non mi faccio la scatola. Lo so, mi conosco. Ehm... No, ci riperfondono. Ci riperfondono. Beh, vedi, è già qualcosa con io? Sì. Quindi è mio. Aspetta, questo è penultimo perché... Guarda. Tutto! Beh, no. Ti mangi a pranzi? Sì, ma mangi te ne quella non... Forse quello no. Aspetta, io c'ho ancora che mu faccio la scarbaratto. Qual è il tuo progetto... La si può cominciare a mangiare. Si mangia. Si mangia, si mangia. Madonna quanto profumano. questi c'è i paccheroni come chiamate voi i paccheroni? no sono i paccheroni ah invece no perché da noi si chiamano paccheroni si si chiamano anche così basta appigionare, questa è una filata in bronzo questa è un po' subito se la fanno proprio quella fatica Francesco, ne fette, ne fette, ne fette e poi c'è la lettera d'amore e questa non ve la diciamo sono cose nostre un coltello, una paletta, niente di niente poi sono un po' di ciardo che tagliamo a mozzi? a mozzi questo porta fortuna questo porta fortuna c'è pure il cupo mio tutti quei cupi che c'hanno in giro mamma mia ma se magari fossero tutti i cupi come me eeeh che spettacolo porta i ghiufetti questi si vede Caterina muore vero Caterina che muore? invidia tieni si lo so che lei e li metti spesso anche a me infatti grazie questo è rischio siete a fatto le palline con il cittadino hai visto? e dopo il biglietto me lo leggo quando sto da su ripreso niente no rifiamo tutto perché non hai ripreso niente? no una parte non hai ripreso niente allora adesso questo qui è stato fatto da? lei è stato fatto oddio io lo so Giorgia ecco ecco ma pensavo che ma vita sa che ciò che fa bello questo bello questo questo lo so io da moneygold io da moneygold io di ravo invece stavano insieme ho fatto da moneygold moneygold ma è il mio si mucina bene chi l'ha fatto? ste mani forno essere fero si 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 anto eccola a lei è lei lei è lei è lei è lei è lei è lei sono ripestata su figata eh allora 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 questa questa da 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 deficiente da da punche da da punche da da punche ma dove lo vedete? penso se non mi ha il nome mio sicuro ma sicura ma no Ilaria ma ci ho disegnato ma ci ho disegnato sì ma ci ho disegnato sì ma tu hai preso dall'inizio? sì ma meno male sì io metà no ho preso qua non lo mandi niente allora 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 la scatolina dell'impertinenza bella dove sta? bellissima bellissima aspetta fammela un quadrat bene oltre De Flux De Flux ma no smucina bene ooooooooh è mia ecco no 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 c'è scritto lori ma mi lo perché se sbagliavate ve culavate pure il mio ecco ecco e appunto ce l'ho scritta poi 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 andiamo qua la tua scusa per ultimo questa è offerta da è una bella gigante da lei ci devi dire il nome da erano da cipollona junior da cipollona junior da cipollona junior Questo, che non si vede, quindi sono curiosa, capito? Ho offerto da? Mi. Da lei? Da me. Da senior. Da lei, sono tutti lei. Da la senior. Da la senior. Da la senior. Da la senior. Da gli soffiori da scrap. Chi è? Eh? Stiamo qua. Questo è Cristina. Lo rimettevo dentro perché era lei. No, è uscita lei. Era meglio. C'è ragione. Eh, voilà. Chi è? Sara Zeta. Dove sta Sara? Oh, ecco. Prima stavi là. Senti, questi mettemoli insieme. Sì, mamma. Ecco. Il piccino di erano ce li toglie. Ma mettila. Lo so, lo finiscono. Allora. Oh, però non si vede. Non lo metto per Cristina. Questi, questi mettoni insieme. No, no, questo è uno che rimane per Cristina. Ce n'è uno in più. Ah, allora mette questo per Cristina. Questo, no, per Cristina. Questo, di Ilaria. Andrà, andrà. Andrà, andrà. Tu sei uscita, quindi non ci dovrebbe essere una cosa. Perché prima lei è uscita. Guarda la figa che il suo regalo è uscito a lei. Bellissimo. Il colore che piacciono molto. Susanna. Susanna, 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 Mona. Susanna tutta panna. Quella è il fungirino. È un'altra generazione. È un altra generazione. È un'altra generazione. Allora. Per me io l'ho ricevuta. Per me io l'ho ricevuta. Sta bene. Sta bene. Ma questo era quello di Simone o tutti e tre? Tre e tre. quindi è tutto uno tre zeri spuzzolosi questo è offerto da Simone no, io meno male che erano io già preso oh, Luigi oh, ma c'è in secondo me allora dovevamo andare la possibilità di scambiare infatti aspetta che faccio l'ugire infatti lui ci vuole che era una potetica tonda la vedo dura lui che ti hanno fatto un bracciale di domani la vedo dura e perché non potrei mettere quelli da dentro? chi da dentro? questo è meno duomo, si è meno scordi poi, 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 poi andiamo io sono decisa che è ma tuo? ah, è un quello e vai il mese è offerto da me ma regalo la scala non ho capito perché c'è pure il regalo dentro ma regalo la scala l'ho capito e basta dentro poi è vuoto sicuro? sarà amicetta eeeh la fortunata ci hai ascolato la cosa che culo che ci hai ascolato la cosa questo è un'altra scala non è un'altra scala non è un'altra scala no, quella l'ha fatta lei che è quella che c'è lei che sono già cavallata quella prima ma no questo qui io ah, già è vero usi un po' di coltello mi sposa di mettere il nome è troppo è troppo grazie ma questo ho finito ma non mi si lasciava perché io lo posso ma è roba mia questa che è arrivata ma questo qui è offerto da? da me non è vero da chi? da Sara da Sara io eccocello grazie poi cioè qui mi sono rimasti tre nomi ah no perché uno e due cose io ne ho portati due in realtà più centrali eh pure io sono messi tre infatti noi lo lasciamo per per facciamo un'altra istruzione continuina no uno lo lasciamo per Cristina ma ti ci sono i nomi mi ha porto con le pratiche allora ci mettermi io lo ho qui davanti no allora questa creazione sua da parte di Lia eh no però gli lascio quello uno che lo so a tutti i coperti ah 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 Alessandra mmm mmm l'ha fatto? Lia stasera stasera oggi pomeriggio dietro oggi pomeriggio però non è stasera eh non so se ti piace però non ti preoccupare gli piace gli piace gli piace perché Lia e Simone hanno messo più di un sacchettino e quindi no ma sta bolla ma che si cae guarda che è scolata infatti sono rimasto bene persone meravigliose guarda guarda che scrive altro che Simone infatti no è cipollone l'ho preso io quindi ci è rimasto l'ultimo quindi Simone bello secco di Lia no no bella mettete in fila questa qui è il regalo che è rimasto per Cristina ecco scegli che cosa ha detto basta hai chiuso chi la vede Cristina per sempre ma ma chi la vede Cristina c'è la fatta Grete fammi po' vede che figata inficcamo subito inficcamo subito inficcamo subito inficcamo subito fammi vede come me sta no fammi vede come me sta dai facciamo una dimostrazione poi la foto che via fammi fare la dimostrazione poi volete dai non ti sta non ti sta bene il romano guarda Casmo guarda che gli ha fatto ah capì scusate che spettacolare tutti i lavori mi dice volete? lo vuoi? è mio che fai? ho capito ti ricordi? bello spettacolare sei speciale sei bello per il bracciale lo devo finire l'ho fatto devo farlo l'altra sera questo mi piace per morire ma sta manicotte è proprio manicotte questa chi è? è manicotte manicotte ha vinto ma qua vedi questo come la ah lei l'ha incrociata di sopra vedi? che figata io invece l'ho fatti come ha fatti marghe ma è bellissimo questo pure quello che cosa compra aspetta io l'ho fatto guardiamo ombre basta la scatola è bellissima guarda sta bene pure col colore non mi sa che il forzo come al salto l'ho fatto un po' largo ma vediamo infatti quando l'ho visto l'avevo l'ho detto no l'ha tratto del forzo largo che è carino guarda poi sento una pure tua è vero mostra mostra non si vede caposcia infatti da lei con tippani tippani eh ma risetta mao chiedi via un po' è semplice chi è bello grazie che c'è aspetta aspetta che l'ha fatto lei bellissima un momento subito che c'è per la maglietta questo qui l'ho fatto io che mi ricetta e poi puoi cambiare e poi puoi cambiare il giro il giro si mi sono preoccupato guarda come mi sento a me ho fatto a misura mia forse però lo sembra che oggi ci hanno indovinato che io non ci vesto mai dei maroni la prima volta a vita mia vedo che voglio il chile di Alessandra fate di questo di Valentina che è stupendissimo è una cosa meravigliosa cioè meravigliosa ragazzi fate fate un saluto ragazzi saluta un po' guarda ciao hai voglia girarmi tutti quanti tutti quelli che mi conoscono ciao ciao e la volete la pace nel mondo si votiamo per la pace nel mondo ciao 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 ciao